Dal corpo dei malati al cuore della politica, questo è il motto dell'Associazione Luca Coscioni. E tante sono le battaglie che ad oggi abbiamo portato avanti in affermazione dei diritti delle persone, quelle malate, quelle che troppo spesso non hanno una priorità nelle agente politiche. Tra queste battaglie c'è la modifica della legge sulla fecondazione medicalmente assistita, una norma che ha introdotto nel nostro paese una serie di divieti che non hanno fondamento né scientifico né giuridico. Di vieti tutti a danno delle persone che cercano di avere un bambino con l'aiuto della medicina e dei malati, quei malati che sperano nella ricerca e che a causa di questa legge vedono vietato l'utilizzo degli ambioni per la ricerca anche se questi ambioni non daranno mai una gravidanza. Negli ultimi otto anni, proprio con i destinatari, noi abbiamo lottato e siamo riusciti ad ottenere dei grossi risultati, dei risultati che hanno consentito una modifica della legge 40 tramite l'intervento della Corte Costituzionale. Ma rimangono altri punti che vanno cancellati e abbiamo bisogno per questo del tuo aiuto. Per questo ti chiediamo di donarci il tuo 5 per 1000. Grazie a tutti.